Riapre al culto e alla fruizione pubblica la chiesa madre di Favara. La maestosa ed imponente madrice è rimasta chiusa ed inagibile per oltre due anni, da quando, il 15 luglio del 2020, un incendio causato molto probabilmente da un cortocircuito distrusse l'antico organo a canne e causò pesanti danni alla navata di destra e a tutta la struttura. Dopo oltre un anno di attesa, nel dicembre del 2021, iniziarono i lavori di ristrutturazione grazie al finanziamento CEI e al contributo dell'otto per mille. Lavori che proprio in questi giorni sono terminati ed hanno riportato la madrice di Favara al suo antico splendore. Da qualche giorno diversi volontari, grazie anche all'intervento di alcune imprese che hanno messo a disposizione uomini e mezzi, stanno pulendo la chiesa per renderla pronta ed accogliente con la cerimonia di riapertura con la celebrazione eucaristica preseduta da donna Alessandro Damiano, arcivescovo metropolita di Agrigendo, programmata per il prossimo 1 novembre, festa di tutti i santi. Il primo novembre ci sarà la riapertura con la presenza del nostro vescovo che celebrerà con tutti i sacerdoti della città e altri che verranno dalle vicinanze e quindi finalmente possiamo riprendere il nostro iter normale anche qui a Favara e tutta la cittadinanza potrà fruire di questo dono e di questa bella opera d'arte perché è veramente qualcosa di straordinario. perché è rinnovata e ritornata ai fastigi di quando è stata costruita perché se ci fate caso si vede che è più luminosa di quando l'abbiamo lasciata. Un risultato raggiunto attraverso i lavori ufficiali e un risultato e un traguardo che sta arrivando anche grazie al volontariato di tanti giovani e di tante persone. Veramente sono contento che questi giovani che fra l'altro si sono offerti diciamo volontariamente, io non conoscevo, tramite qualcuno lo conoscevo di vista, loro stessi si sono offerti per dare una mano e lo stanno facendo con generosità, lo stanno facendo con tanta passione proprio per rendere fruibile la chiesa a tutta la città di Favara. È veramente una grande gioia che è costato tanti sacrifici da tanta gente che anche non è di Favara per arrivare a questo risultato. Io innanzitutto il mio pensiero va a queste persone per ringraziarle per tutto quello che hanno fatto per metterci in questa condizione. Ecco il primo anno è stato un anno diciamo più travagliato anche perché bisognava far entrare il programma in un certo sistema che poi ha dato lo sviluppo. Ringraziamo il Signore, si è lavorato un altro anno intero e siamo qui. Ecco questo è il risultato che abbiamo raggiunto. I lavori sono stati fatti però c'è ancora tanto da fare per rendere ancora più bella e fruibile la nostra madrige. È stato aperto anche un conto, c'è un codice IBAN per la sottoscrizione. Finalizzato a che cosa? Allora ci sono tantissime cose da fare poi all'interno ancora, diciamo che hanno bisogno di mezzi innanzitutto, di aiuti e specialmente riportare la Chiesa alla bellezza totale perché ci sono delle cose che magari quando entreranno alcuni si rendono conto che non sono al loro posto, che hanno bisogno di una sistemazione.